Somalia in ginocchio a causa della siccità. Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la Somalia, il sudanese Adam Abdelmoula, ha avvertito che il paese africano sta attraversando una catastrofica siccità, la peggiore degli ultimi 40 anni. Parlando al Cairo in Egitto durante il vertice congiunto della Lega degli Stati Arabi e dell'ONU, Adam Abdelmoula ha espresso tutta la sua preoccupazione. La Somalia è attraversata da un'emergenza catastrofica a causa della più lunga e grave siccità che il paese abbia mai vissuto in tutta la sua storia. Quattro stagioni consecutive senza pioggia sufficiente sono seguite in questo momento da una quinta stagione e le proiezioni indicano che la situazione continuerà attraverso una nuova stagione di siccità all'inizio del 2023. Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, 6 milioni e 700 mila somali, poco meno della metà della popolazione della Somalia, dovranno affrontare alti livelli di acuta insicurezza alimentare. Quattro stagione